Ben ritrovati con l'informazione di Antena Sud, pagina questa dedicata alle province di Bari, Labatte e Foggia. Intanto andiamo con il sommario, i fatti principali. Falso in bilancio, estorsione, lesioni personali. Si chiudono con questi capi d'accusa le indagini preliminari sugli ex vertici della Banca Popolare di Bari. La montare delle false comunicazioni sociali è stimato in diverse centinaia di milioni di euro. A partire d'aprile l'abbattimento dei 26 edifici dell'area dell'ex casermette Milano e Capozzi di Bari per fare posto al nuovo parco della giustizia. L'opera prevede uno stanziamento di 405 milioni di euro. Edizione numero 14 del Bari International Film e TV Festival, la manifestazione cinematografica che si terrà nel capoluogo dal 24 marzo al primo aprile. E allora, lo avete sentito nei titoli, intanto partiamo con la cronaca e andiamo a Bisceglia nella Bat. Gli serviva denaro per procurarsi sostanze stupefacenti per uso personale, per questo un ventunenne di Bisceglia avrebbe compiuto due rapine in un bar e in un supermercato. In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Trani, i carabinieri hanno arrestato il giovane per rapina aggravata. Si giunge dunque a risolvere i nodi relativi ai fatti che risalgono al 19 e il 26 febbraio scorsi. Il sistema era sempre lo stesso, il ventunenne agiva col volto coperto e armato di una pistola salve per minacciare le sue vittime e a incastrarlo sono state le testimonianze raccolte dagli investigatori e i riscontri delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Sempre cronaca, pagina giudiziaria, si sono chiuse le indagini preliminari sugli ex vertici della Banca Popolare di Bari. I principali capi d'accusa, falso in bilancio, estorsione, legioni personali e l'ammontare delle false comunicazioni sociali pensate stimato in diverse centinaia di milioni di euro. I dettagli. Con le accuse di falso in bilancio, ostacolo la vigilanza della Consob e di Banca Italia, estorsione, lesioni personali ai danni di un manager e aggiotaggio bancario ai danni degli azionisti della banca, la Procura di Bari ha emesso gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli ex vertici della Banca Popolare di Bari, commissariata dalla Banca d'Italia nel dicembre del 2019. L'atto di chiusura delle indagini, che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato a Marco Gianluca Iacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex vice direttore generale della Banca Popolare di Bari. E ancora Vincenzo De Bustis Figarola, ex direttore generale ed ex amministratore delegato della banca, Giorgio Papa, ex amministratore delegato, Roberto Pirola, ex presidente del collegio sindacale e gli ex dirigenti Elia Circelli, Giuseppe Marella, Gregorio Monachino, Nicola Loperfido e Benedetto Maggi. L'ammontare delle false comunicazioni sociali è stimato in diverse centinaia di milioni di euro. Le accuse sono contenute in 23 capi di imputazione nei quali gli indagati a vario titolo sono accusati, sia attraverso i falsi in bilancio, sia nelle comunicazioni alla clientela, di aver minato la stabilità patrimoniale e la capacità di essere solvibile della banca e ancora di aver alterato la percezione della solidità bancaria, quindi la fiducia dei risparmiatori che avevano affidato alla Banca Popolare di Bari i risparmi in gestione fiduciaria. I reati contestati fanno riferimento al periodo compreso tra il 2013 e il 2019. I militari della Compagnia di Monopoli nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio hanno individuato negli ultimi mesi otto officine meccaniche abusive contestando l'esercizio non autorizzato della professione, il mancato rispetto della normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciato anche un illecito percettore del reddito di cittadinanza. Si tratta di accertamenti attualmente nella fase delle indagini preliminari che necessitano di successiva verifica processuale contraddittorio con la difesa. Intanto il piano di contrasto all'abusivismo commerciale ha consentito di scovare queste strutture tra i comuni di Monopoli, Conversano, Poliniano e Castellana Grotte e molteplici le violazioni amministrative riscontrate con sanzioni superiori a 45 mila euro. Adesso il Palagiustizia Bari a partire d'aprile è finalmente l'abbattimento dei 26 edifici dell'area delle ex casermette Milano e Capozzi per fare posto a quello che sarà il nuovo parco della giustizia nel capoluogo. L'opera prevede uno stanziamento di 405 milioni di euro. Il nuovo parco della giustizia di Bari è una forma precisa e quella che emerge dai dettagli del progetto presentati nelle scorse ore a Palazzo Madama. L'area è quella di quasi 15 ettari di cui 10 riservati al verde, attualmente occupata dall'ex caserma Milano e Capozzi nel quartiere Carrassi del capoluogo e già da aprile inizierà la demolizione dei 26 edifici che insistono al momento su quei terreni, occupando nel 70% dell'estensione. Lì sorgerà la cittadella, un importo da 405 milioni di euro, di cui 382 già stanziati dal Ministero della Giustizia e la restante quota messa a disposizione attraverso i fondi dell'Agenzia del Demanio. Lo schema c'è, quattro edifici risposti a corte, a pianta quadrata, organizzati tra loro in modo da richiamare l'immagine di un quadrifoglio scomposto, tra le cui foglie si aprono spazi di percorrenza e di sosta, tra i servizi offerti anche un asile e una biblioteca. Vi troveranno posto il Tribunale Penale e quello civile, la Corte d'Appello, il Tribunale dei minorenni, quello di sorveglianza e il Giudice di Pace, per un totale di circa 1800 professionisti, tra giudici, procuratori, magistrati, avvocati e altre figure del comparto. Torniamo a parlare della giornata dedicata alle donne e con una riflessione sul ruolo al fianco della Costituzione italiana. È stato fatto molto ma resta ancora molto da fare. Se ne è parlato in un incontro all'Università di Bari. In occasione della festa della donna non sfugge il ruolo di grande importanza che il genere femminile è riuscito ad avere sul piano strategico a proposito della Costituzione. La legge fondamentale dello Stato è che si prepara a festeggiare i 75 anni dall'entrata in vigore. Si è parlato di questo all'Università di Bari Aldomoro, nel convegno organizzato dal Centro Italiano Femminile. Costituzione che svolge soprattutto un ruolo importante di tutela e valorizzazione. È la giornata dei diritti internazionali delle donne ma in qualche modo è la giornata di riflessione. Non c'è niente da festeggiare, è una giornata che ci permette di renderci sempre più consapevoli dell'importanza della parità di genere. La strada è ancora lunga da fare e lo dice il Global Gender Gap e il suo report che ci vede ancora distanti di oltre 100 anni per colmare il vuoto che c'è dal punto di vista professionale, economico, sociale che spesso ci vede appunto tra le ultime postazioni di paesi come l'Italia che sta al sessantessimo posto ancora. Invece l'Islanda raggiunge quasi il 100% di questo gap, di questo vuoto dove ancora ci vede con una grande differenza. È un momento di riflessione sul ruolo del femminile come tale, delle madri nella storia, quando davvero intorno al focolare si tramandavano storie, leggende e sono state anche le madri della Costituzione. Quindi la generatività della donna e anche generosità nei confronti di tutti e sono le fondamenta della società. Proseguiamo con questa pagina dedicata all'8 marzo, dedicata alle donne. Un seminario per il contrasto alla violenza di genere è stato organizzato dalla CISL. La violenza di genere rappresenta un fenomeno diffuso che colpisce principalmente le donne. Si tratta di una forma di violenza basata sul genere che può assumere molte forme come la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. Per prevenirla è necessario agire su diversi fronti. In primo luogo è importante promuovere l'educazione e la sensibilizzazione sulla questione del genere. Inoltre è fondamentale rafforzare i servizi pubblici e privati per la protezione delle donne vittime di violenza. Di questo si è discusso durante la tavola rotonda la violenza di genere, prevenzione e contrasto percorsi di consapevolezza organizzata dalla FNP CISL di Bari. I ragazzi rappresentano il futuro e queste sono iniziative assolutamente pregevoli perché consentono gradualmente, lentamente ma in maniera si spera inesorabile di avviare un processo di riforma culturale per il superamento di quella cultura patriarcale che molto spesso è alla base di quella che è la violenza di genere. Una norma del 2019 che viene appunto conosciuta come legge del codice rosso che ha sostanzialmente imposto al pubblico ministero un intervento molto rapido, molto celere in occasione delle denunce delle donne, proprio al fine di evitare i tempi lunghi che non sono compatibili con queste patologie. L'ASL di Foggia invece dedica l'8 marzo una giornata concentrata sugli screening oncologici femminili. Dovete venire a fare screening, assolutamente, non perdete questa occasione e non pensate che è gratis e quindi la mammografia non viene fatta bene. I tumori mammari purtroppo sono in aumento e noi vi invitiamo a venire perché veramente una mammografia può salvare la vita. Prendersi cura della salute e del benessere delle donne è senz'altro il modo più bello per festeggiarle oggi e sempre. Ne è convinto il personale del centro di senologia del poliambulatorio dell'ASL di Foggia che in occasione della giornata internazionale della donna sta effettuando mammografie di screening alle donne d'età compresa tra i 50 e 69 anni che si sono prenotate attraverso il QR code oppure chiamando il numero 0882 200588, un'occasione importante da sfruttare considerato il dato in netto aumento dei tumori mammari e di tempi generalmente molto lunghi per la prenotazione degli screening. Io volevo ringraziare di cuore soprattutto il nostro direttore Michele Faruolo per tutta la stima e la fiducia che ci ha dato veramente. Siamo state appoggiate in tutto. Siamo partiti vent'anni fa con tumori di due centimetri di diametro. Oggi andiamo alla ricerca di quelli di due millimetri e la differenza è notevole. Quindi preghiamo tutte le donne di potersi servire, di venirci a disturbare perché saremo a loro completa disposizione. Colgo l'occasione per ringraziare l'operato e la determinazione del dottor Nigri, del nostro direttore generale che insieme, ripeto, al dottor Mezzadri e al dottor Troiano, tra l'altro si sono impegnati al massimo della loro condizione a far sì che ci sia un allargamento degli spazi dedicati a questa struttura che saranno realizzati nel più breve tempo possibile, forse già dal mese di giugno-luglio. A loro un grazie da parte nostra. E a Trani, la triste vicenda di una donna disabile costretta a vivere senza poter entrare in contatto con l'esterno a causa di un citofono guasto da mesi. Un citofono rotto e l'impossibilità di poter accedere al domicilio di una signora disabile con diverse patologie. Questa è la storia di Enza, 68 anni, ex assistente di polizia penitenziaria, riformata per inidoneità fisica ed oggi disabile al 100%. Nelle sue attuali condizioni ha bisogno di un accompagnamento a causa di numerose e gravi patologie. È paziente oncologica, diabetica, ha uno scompenso cardiaco, insufficienza polmonare in trattamento di ossigeno, accusa una poliatrosi diffusa ed ernie discali che le impediscono di camminare autonomamente se non con l'uso di un deambulatore o di una carrozzina a spinta assegnatale direttamente dalla ASL in uno stabile dove peraltro non sono state abbattute le barriere architettoniche. A fronte di tali disagi la signora Enza riceve assistenza da parte dei servizi sociali con lo strumento dell'assistenza domiciliare integrata, mentre la ASL le assicura visite mediche e cicli di fisioterapia domiciliari. Tutto questo avveniva con regolarità fino al dicembre 2022, quando cioè il citofono si è rotto. Così operatori sociali, fisioterapisti, sanitari addetti alla consegna periodica di ossigeno, corrieri della spesa quotidiana, non possono farsi aprire il portone. Da qui la diatriba con l'amministratore condominiale, una denuncia querela asporta in commissariato, un ricorso al tribunale civile ed una pecca in procura. Si aspetta l'esito dell'azione penale, però il problema non è l'esito dell'azione penale finale. Il problema è come si risolve adesso la situazione. Ho detto all'amministratore, mi faccia una cortesia, cerchi in modo di lasciare aperto il portone. Il problema è che c'è un discorso di sicurezza su cui poi ne vado a rispondere, perché se durante la notte qualcuno mi danneggia nel portone, può entrare a rubare in qualche appartamento. Con quale giustificazione vado a dire ai condomini no? Visto che c'è un problema oncitofono ti lascio spalancato giorno e notte in una zona, tra l'altro, in un periodo in cui stiamo ricevendo parecchi furti. D'oggi non si è fatto nulla. Io sono stanca, depressa, la mia malattia stanno mai andando, non so più che cosa devo fare. All'ospedale San Paolo di Bari la dermopigmentazione per le donne colpite da tumore al seno. Una presentazione importante in un giorno simbolico, quello dedicato alle donne. A Bari, all'ospedale San Paolo, è stato infatti inaugurato un nuovo ambulatorio di dermopigmentazione del seno, dedicato alle pazienti operate di tumore mammario. Presenti i vertici ASL, con taglio del nastro e soddisfazione per un percorso importante sul piano sanitario. Questo è un ambulatorio particolarmente importante, perché abbiamo avuto una donazione da parte dell'associazione Energia Donna, che segue sempre con l'ASL tutti gli aspetti per migliorare la qualità della vita delle pazienti. Ci ha donato questo dermografo che consente di fare una sorta di tatuaggio medicalizzato per le donne che hanno fatto un intervento di mastectomia e che magari non desiderano risottoporsi a un intervento per ricostruire l'areola del capezzolo e quindi preferiscono fare un intervento meno cruento che quello del tatuaggio. Oppure chi ha fatto la ricostruzione comunque del capezzolo può completarla con il tatuaggio. Quindi è una procedura molto importante dal punto di vista proprio della ripresa della vita normale. Molte pazienti al termine del lungo percorso terapeutico, diagnostico e terapeutico sono stanche di affrontare anche interventi di minima entità e questa è una possibilità che consente alle pazienti appunto di non sottoporsi ad un ulteriore intervento ma di risolvere il problema della ricostruzione finale del complesso l'areola del capezzolo con un intervento ambulatoriale privo di anestesia, privo di qualsiasi tipo di stimolazione dolorosa per cui la paziente può in questa maniera completare tutto il trattamento senza interventi chirurgici o genitivi. L'Associazione Italiana Sommelier di Bari pensa a un corso all'insegna dell'inclusione sociale dedicato alle persone più fragili. Torna all'innovativo progetto di AIS Bari dedicato alle persone con bisogni educativi speciali. L'Associazione Italiana Sommelier pensa a un corso per i più fragili dal punto di vista psicofisico per coinvolgere anche loro nella conoscenza tecnica del vino attraverso l'utilizzo della vista e dell'olfatto. Un modo per superare i pregiudizi per favorire l'inclusione sociale. L'evento a Conversano. Questo è un corso che abbiamo programmato e progettato per dei soggetti, ragazzi, persone, intanto al di sopra dei 16 anni, che sono delle persone speciali con dei bisogni educativi speciali appunto. E noi insegniamo loro la tecnica di degustazione soltanto attraverso l'esame visivo e olfattivo. Fa parte ormai di un programma di AIS Puglia e anche di AIS Italia in quanto in questi corsi si rivolgono a ragazzi con piccole problematiche che comunque aiutiamo a vivere quel disagio in maniera molto più attiva. Quindi coinvolgiamo le attività che AIS fa addirittura nel mondo del lavoro, ma svolgiamo un ruolo che AIS deve fare. L'AIS è un'associazione di promozione sociale ed è quello che fa. Siamo molto contenti di poter ospitare questo corso. Li ospitiamo in questa sede che si occupa di autonomia e di inclusione lavorativa per soggetti disabili. Per cui abbiamo intercettato con un incontro fortuito l'associazione che ci permette di fare questo corso. Come già abbiamo fatto nel percorso con i ragazzi dove quattro persone già stanno lavorando, cerchiamo di farlo fruttare per inserire altre persone nel mondo del lavoro. A Gioia del Colle è un convegno dedicato alla prevenzione delle patologie che colpiscono il colo. Il carcinoma colorettale, la seconda causa di tumore mortale negli uomini, è il secondo tumore più frequentemente diagnosticato dopo quello al seno per le donne. Prevenirlo è importante così come curarlo una volta scoperto. La tecnologia a tal proposito ha fatto passi da gigante e la formazione è fondamentale. Se ne è parlato a Gioia del Colle in un convegno organizzato dal distretto territoriale della ASL. Nuove frontiere da un punto di vista principalmente diagnostico per la precocità massima che possiamo raggiungere con nuove metodologie che sono metodologie legate voi alle nuove tecnologie elettroniche a disposizione ma anche grazie alla colorazione vitale delle lesioni minime che rappresentano i precursori del carcinoma colorettale che noi abbiamo per primi in Puglia applicato nel nostro distretto. Convincere pazienti allo screening potenzialmente uomini da 50 a 70 anni è una priorità come sottolineato dal direttore Andrea Giglio Bianco. Prevenzione, questo è un elemento determinante in sanità, prevenire come diciamo sempre è meglio che curare. Lo screening del colonretto è un altro tassello importante nella prevenzione dei tumori e quello del colonretto si rivolge agli uomini e donne tra i 50 e 70 anni. È gratuito. L'ASL invia a casa del paziente un invito a ritirare delle provette per la raccolta delle feci attraverso la farmacia che provvede poi all'invio ai laboratori. In caso di positività il paziente è invitato a sottoporsi ad esame endoscopio e quindi a colonoscopia. A Trinitapoli un incendio ha colpito il cantiere della scuola Staffa. Sono delinquenti che vogliono fare soldi facili, soldi facili ma sporchi. 8 marzo è festa della donna anche all'istituto superiore Staffa di Trinitapoli ma anche una manifestazione aggiuntiva per i recenti fatti di cronaca che hanno colpito la scuola. Dopo l'incendio del cantiere dei giorni scorsi studenti, professori e dirigenza si sono riuniti pacificamente per una risposta a chi ha causato un danno enorme all'intera comunità del territorio, la città unita per supportare cultura e legalità. Ovviamente è un messaggio di protesta ma anche un messaggio di speranza perché colpendo questa scuola che doveva essere, noi l'attendavamo da tanti anni e quindi a breve sarebbe diventata la dimora per i nostri ragazzi, colpendo questa scuola non si colpisce solo la scuola, si colpisce tutta la società perché la scuola è il luogo massimo della cultura e una società senza cultura non può andare avanti. Forte il messaggio della Trinitapoli che non piega la testa davanti agli atti vandalici. Lo staffa riparte con la forza delle donne nel giorno dell'8 marzo e con il supporto degli uomini di oggi e di domani. Noi poi stiamo vivendo in questo territorio un periodo abbastanza brutto di clima violento, di illegalità per cui oggi noi vorremmo dire con gli studenti, con i genitori, con tutti i professori vorremmo dire basta, siamo stanchi e vogliamo continuare a fare il nostro lavoro che è quello di insegnare i principi della convivenza pacifica, della non violenza, della legalità. Sarebbe dovuta essere una scuola all'avanguardia e il fatto che ce l'abbiano tolta ritardando i lavori penso che sia un atto che parla da sé. Il genio della nostra scuola è noto vergognoso perché quale aule sarebbero dovute essere le nostre? Un elogio va innanzitutto rivolto alla presidenza del nostro istituto che si è subito mossa in favore di questa manifestazione e per citare una celeberima canzone, non ci avete fatto niente. Ed è attesa per il prossimo 17 maggio la sentenza del processo per il naufragio della Norman Atlantic avvenuto a largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 e il 28 dicembre del 2014 e che causò la morte di 31 persone e il ferimento di 64 passeggeri. Il presidente del collegio giudicante Marco Guida ha aggiornato l'udienza a metà maggio per eventuali altre repliche e dichiarazioni spontanee da parte degli imputati. In quella stessa udienza ha previsto il ritiro in Camera di Consiglio e la successiva sentenza. I PM Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano hanno chiesto nove anni di reclusione per Carlo Visentini, legale rappresentante della società di navigazione armatrice della motonave Norman Atlantic, per Argilio Giacomazzi, comandante del traghetto e per Ioanni Vardino Gianni, rappresentante legale dell'azienda noleggiatrice del traghetto. Per i tre che rispondono di naufragio e omicidio plurimo colposo con l'aggravante della colpa cosciente è stata avanzata anche la richiesta di interdizione perpetua dai pubblici uffici e la Procura ha chiesto anche la condanna delle due società imputate al pagamento di sanzioni pecuniarie quantificate in 400 mila euro e per una delle due per l'altra 600 mila euro. Chiesta poi la condanna per gli stessi reati alla pena di otto anni per gli altri legali rappresentanti dell'azienda noleggiatrice. Adesso invece restiamo sempre a Bari ma cambiamo pagina decisamente. Parliamo dell'edizione numero 14 del Bifest Bari International Film e TV Festival, la manifestazione cinematografica che si terrà nel capoluogo dal 24 marzo al 1 aprile. Vorrei veramente dedicare questa giornata importante a tutte le donne che erano su quella barca, ai loro bambini, a tutte le donne che in questo momento combattono per i loro diritti in ogni parte del mondo, che sono costrette da una cultura patriarcale a sopportare l'insopportabile. Nel giorno della festa della donna la dedica del presidente Michele Emiliano è tutta per le donne che hanno perso la vita nel neofragio di Cutro. Bifest edizione numero 14 del Bari International Film e TV Festival che quest'anno si terrà dal 25 marzo al 1 aprile con un'anteprima il 24 tutta dedicata ai diritti umani e la presentazione del documentario Rumore Human Rights. 8 le anteprime internazionali, la sezione non competitiva che comprenderà lungometraggi inediti tra cui il film di Margarete Fontrotta, Viaggio nel deserto, Gabriele Salvatores con il ritorno di Casanova quando di Walter Ventroni e l'evento speciale Tributo a Ugo Santa Lucia con la proiezione della versione integrale di Ludwig di Lucchino Visconti. 12 i film per il panorama internazionale, ancora i laboratori e le masterclass con Fabrizio Bentivoglio, Sonia Bergamasco, Luigi Locascio, Fanny Ardham. Il 28 poi è una giornata speciale dedicata al cinema iraniano e la consegna al regista Panai del premio Fellini. L'occasione è servita anche ad annunciare la seconda edizione del Fuori Bifest e gli appuntamenti collaterali organizzati dal comune di Bari nei cinema e negli spazi culturali della città. Sarà un'edizione molto partecipata, abbiamo fatto due call una con gli operatori commerciali e l'altra invece con gli operatori culturali. Avremo oltre 100 eventi, mostre, cinema all'aperto, locandine cinematografiche all'interno delle attività economiche, manifestazioni, musica, cantieri e eventi. Siamo in chiusura anche di questa pagina dedicata alle province di Bari, Labattefoggia ora allinea la regia per gli aggiornamenti da Brindisi, Taranto e Lecce. Grazie come sempre per averci seguito, un buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo. Grazie. Grazie.